Ciao Daniele! Rispondo al tuo commento, ma anche questo lo uso perché tanti me lo chiedono. La caldaia mista, pellet o legna, funziona? Va bene? Nel caso tuo mi chiedi che è una stufa pellet, vorresti toglierla per mettere una caldaia combinata mista pellet e legna. Va bene o non va bene? Lo vediamo dopo l'intro. Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di Superbonus 110, EcoBonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fai a caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose. Caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Allora Daniele, la risposta è sì, la caldaia mista pellet legna può andare bene, però mi raccomando, lo dico a te, ma lo dico a tutti gli altri che ci ascoltano e lo sto dicendo a chi mi chiama direttamente, la caldaia mista pellet legna deve essere scelta con razzocigno, e cioè con le aspettative corrette. Tantissimi pensano che mettono una caldaia mista legna pellet e possano fare, in modo che possa fare lo switch quando vuole, quando voglio vado a legna, quando voglio vado a pellet, quando voglio vado a legna. In realtà queste tipologie di caldaie sono create per dare la precedenza alla legna e questo te lo devi mettere bene, bene, bene in testa. Poi viene affiancata una caldaia a pellet in certi casi, quindi sono due corpi che vengono messi assieme, oppure viene studiato il sistema per farle lavorare assieme, però principalmente è una caldaia a legna e come tale deve essere poi concepita. Quindi se tu già fai legna, hai il bosco tuo, ti piace fare la legna e via, la scelta è perfetta. Se invece tu di tempo ne hai poco, la legna non ce l'hai e pensi di fare questa scelta per andare principalmente a pellet ogni tanto a legna, secondo me non è la scelta più corretta. Secondo aspetto, bisogna far conto del prezzo. C'è una caldaia di questo tipo, costa parecchio, perché alla fine sono due caldaie messe insieme, due tecnologie messe insieme, quindi costa tanto per avere ad esempio nel caso del conto termico, un solo conto termico che è quello di prevalenza e quindi quello della legna. Costo è una cosa che lo devi sempre valutare. Terzo, gli spazi. Ci vogliono spazi veramente grandi. Ne abbiamo installata tramite un partner installatore poche settimane fa anche a Curtatone, a Mantua. Vedrai il video tra un po' di una caldaia mista con due puffer da mille litri e ti renderai conto che lo spazio è veramente generoso. Quindi il tutto funziona, sì. E poi, ultima cosa, non scegliere miste economiche. Assolutamente, no. Devi andare su fascia sempre alta, quindi caldaie austriache, tedesche, croate. In quel caso, cadi bene. Però mi raccomando sempre le aspettative, ok? Fammi sapere che cosa ne pensi adesso che ti ho risposto. Ciao! 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 Grazie.